Prima il voto compatto sulla presidenza della Commissione Servizi Sociali e Istruzione, andata all'esponente di opposizione Alessandra Ascia, poi la rinuncia alle tre interrogazioni che avevano alimentato nuove tensioni in maggioranza. I forzisti danno tempo all'amministrazione comunale, quella di lasciare l'aula del question time. Ieri sera di fatto rinunciando alle interrogazioni sulle condizioni delle strade, del verde pubblico e sulla gestione delle rotatorie. È stata una decisione ponderata. Il capogruppo di Forza Italia, Rosario Tranito, ha avuto modo di avere interlocuzioni con il sindaco Lucio Greco. Per senso di responsabilità e perché Forza Italia non è assolutamente contro la maggioranza, così spiega Tranito, è stato deciso di attendere la riunione che dovrebbe essere convocata a breve. Tranito ribadisce inoltre la linea del partito e il fatto che il sindaco abbia comunque apprezzato questa scelta. Forza Italia si ritiene parte integrante della maggioranza e Tranito è sicuro che nel corso della riunione di alleanza ci saranno i chiarimenti che si attendono. Il consigliere, che spesso è stato molto critico con l'amministrazione, apre una porta per il dialogo interno dopo settimane di gelo quasi assoluto nei rapporti con altri pro greco. Il caso dell'inaugurazione del tratto riqualificato di Viale Mediterraneo, con la presenza dell'assessore regionale Marco Falcone, ma senza i forzisti vicino al parlamentare Ars Michele Mancuso, aveva fatto alzare un muro tra azzurri e gran parte degli alleati. Ora però arriva un segnale tangibile di altro genere. Anche il parlamentare regionale Michele Mancuso sembra seguire la strada del dialogo e si era già detto disponibile a partecipare alla verifica di maggioranza per rilanciare il progetto politico che a questo punto dovrebbe andare avanti con gli azzurri. Le tre interrogazioni firmate dal gruppo consigliare Berlusconiano con lo scontro interno in atto sono subito passate come possibili provocazioni rivolte soprattutto all'area civica. Dal tavolo di maggioranza dovranno comunque maturare gli ultimi accorgimenti politici per arrivare a fine mandato prevenendo eventuali strappi. Anche la Giunta infatti continua ad essere sotto esame.